Raga siamo pronti per registrare, faccio il video sulla survival Ah va bene, si va bene Ok, pronti? Cominciamo Eh non mi appare il mondo Aspetta, si sta caricando Ah ok Raga non si apre più, dice errore Ma cosa errore? Gabriele? Non riesco ad aprire il mondo, sto premendo ancora, carica, carica Dice errore Gabriele, al senario sono due, o ci stai prendendo per il culo Non vi sto prendendo per il culo Vi ho fatto sempre partecipare ai miei video Non si apre più la survival Quindi tu stai dicendo che abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto nel mondo? Eh mi dice errore Non so che devo dire raga Stiamo, ho perso tutto Ho perso il mondo Ho perso la survival Eh che diamine raga Sì ma porca puttana Gabriele Ma ci avevamo di tutto là dentro Porca puttana Eh lo so Un'alternativa è un'altra Lasciamo che il mondo Facciamo un altro mondo E creiamo la nuova survival Però dobbiamo ricreare la stessa costruzione Io ci provo a ricostruirla Però te lo dico non lo faccio online Cioè non lo faccio nel video Cioè io vi porto subito il contenuto Perché Poracci di nuovo arriva dentro il mondo Cioè di nuovo arriva dentro tutta la casa E io non sento di ricargliela vedere Vabbè Eh vabbè Comunque Dai cominciamo Costruiamo un altro Vabbè Six and a half hours later Grazie a tutti ragazzi E benvenuti a questo nuovissimo video qua Sulla survival in the world Nella survival del mio canale Qui è il vostro Galogaming che vi parla Sono i compagni di NikoBDT e LolloDrago 143 salutate Come avete visto all'inizio del video È stata un po' come una scena un po' triste Che non si apriva il mio vecchio server Dove c'era tutto Anche il mio castello E anche la survival Quindi Se mi scrivete nei commenti Che Se mi dove andate Perché non sei nella solita posizione Dove hai fatto la tua casa È per questo Che il mio vecchio server Non si apriva Minecraft mi dice Errore di connessi Errore Riprova più tardi L'ho provato non so quante di quelle volte Poi grazie ad alcuni miei amici L'abbiamo ricostruita Non è perfettamente identica Però Almeno ci abbiamo un tetto sopra Eh ma grazie a maggior parte A chi che l'ha costruita Beh NikoBDT Che sei Proprio è stato l'unico a ricostruirla Visto che è lo stesso materiale Eh Però la forma è un po' diversa Vabbè lasciamo perdere Poi ho voluto fare pure qualche Diciamo qualche avvellimento con le foglie L'ho prese con le tussatrice Che infatti se vedete qua in giro Ci sono più alberi Perché ho fatto tutto con la tua patrice Ci ho messo tanto lì Poi abbiamo messo il vetro come Tetto Per far vedere pure il cielo Che sarebbe stato molto bello Comunque raga Questo qui è un albero Che abbiamo messo Uno per ricordo del mio vecchio server Secondo per quello che c'è stato Quello in centro Italia Ovviamente da me Si è creato ovviamente da Niko Poi ti hanno dato anche l'idea Da me Ho dato a teglia l'idea Niko ha creato il terremoto ragazzi È vero È colpa sua È colpa sua che c'è stato il terremoto Anche per il mio vero server Ci chiamolo tutti Non è vero ragazzi SOS è terremoto Ragazzi mi dispiace davvero tanto Per i ragazzi che sono Che vivono E che vivono ancora Ad Amatricio Con doglianze davvero tanto Ai genitori E ai figli Che non hanno più genitori E a parte questo ragazzi Lasciamo perdere il terremoto Perché è davvero un accaduto Davvero molto brutto Dove noi ancora Un sacco di altra gente Pichiamo E Non parlando Queste cose tristiche Tra la parte Piangere pure a me Cerchiamo di concentrarci Più sulla survival E noi dovremo fare Il trattenimento Sul divertimento Quindi lascio la parola a Gabri Ok Visto che questa è la nostra Survival Lollo tu hai visto Che c'è una mappa Per favore Droppamela E io in cambio Ti do questo Bellissimo pezzo Di legno Vabbè Lo sono droppato io Comunque raga Se per questo video Raggiungere al massimo 7 like 8 per la perdita del mondo Vabbè 8 8 like Per 8 like Per il prossimo episodio Qua Sulla Survival In the world No vabbè Raga A voi è mai sesso Di troppo Io nero Eccolo Cosa No raga c'è un coniglio Raga c'è un coniglio Lo dobbiamo chiudere No raga Non lo ammazzate Chiudetelo Possiamo fare la farm Aspetta Aspetta La farm Trascinatecelo Attenti Mettetelo qua dentro Mettetelo qua dentro Nel buchetto Che abbiamo fatto Via Vieni qua il coniglio Le carote Le carote Servono carote Eh non ce l'abbiamo carote E portano Dove è Dove è il coniglietto Oh portalo qua Guarda Portalo qui Sto facendo una buca Eccolo Stanno nella buca No No E' stanno nella buca No è morto Portalo qui il coniglio No lo 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 ammazzato Lolo lo ammazzato Ok Ammazzato il coniglietto Casper Eh vabbè Povero Lolo Ci si è paura Pure Casper Sì vabbè Il fantasma Casper Comunque Io Non dobbiamo morire No no Stai fermo Porca puttana Comunque Lolo Ma porca Quella puttana No non è capace In questa survival L'obiettivo è non morire mai E' vero Eh anche tu prima Mi stai decidendo Sì però non sei morto Però c'è un motivo Comunque raga Visto che La mia esperienza E' quella di esplorare Io vado a esplorare Quindi vado a cercare Il nuovo mondo Se qualcuno segue Hai il video E qualcuno Diciamo che Un rispetto di Calma Mi lascia Un conto Oh Ho trovato carbone Sì stiamo arrivando Bravo A proposito di carbone Dovremmo fare la miniera La creo io No ho già trovato qua Un po' di miniera Eh no Ma proprio la miniera Dentro casa Dove ne fai Non la faccio lì Vabbè ma non troveremo Ho trovato una miniera No Non è una miniera Non è una miniera No la facciamo dentro casa La nostra miniera Raga mi sembra Che qualcuno mi può droppare Un po' di trocce Torce Torce ce l'ho io Vieni qua a casa È un po' impossibile Ho trovato una miniera Di acqua Ho trovato una miniera Tante Intanto c'è il mio amico Che mi chiede Se abbiamo finito il video Che d'altronde Lo saluto anche Però Purtroppo Non l'abbiamo ancora finito Sì Poi c'è certi I miei iscritti Che mi chiedono Di invitare Che Che li invito Dentro al party Per vedere Il mio video In diretta In diretta Mi ha detto No Il video deve essere una sorpresa Lo scoprirete Nel mio canale Quindi raga Se qualcuno Non si è ancora iscritto E sta vedendo Questo survivor Vi consiglio Di iscrivermi al canale Per non perdere Nuovi episodi Qua Su rainbow Su gta Su gta Su galop duty Su fifa A proposito Di fifa Che Mettere la campanellina Che ci sta Nel profilo dello youtube Dove praticamente Ti segnala Quando ci sta Un video recente Che stiamo facendo Quando esce il video Iscrivetevi Esce il video Praticamente Iscrivetevi Anche al mio Tra poco ragazzi Raggiungeremo Il grandissimo Traguardo Dei 200 iscritti Sto arrivando A Leo Sto facendo Un giacimento Di bono Pecora Dammi un po' Del tuo cibo Grazie Sei una pecora Molto gentile Oddio Chi vuole canne Da zucchero Offro canne Grazie Mi ho già fatti Abbastanza Con cash Che mi ha Te saluto Ma rossa Ok salutiamo Tutti i paesi Del mondo A questo punto Se nominano Tutti quanti Grande Sta pure Piovendo Che bellezza Del tempo Del cazzo Oh raga Dove siamo Io sto in miniera A casa Ho fatto La miniera Ragazzi Iscrivetevi Anche al mio Canale Che è un piccolo Canale Che però È sempre In crescita È sempre In crescita Sta crescendo Gli iscritti Pian pianino Ragazzi Ti servivano Torce Si Ma Non più Adesso Perché ormai Sono arrivato Ah si Adesso Si 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 Mi serve Torce Ho già 50 Di carbone Ho 50 Di carbone Ok 42 Oh no no Gabri Scavelati Qua ci sta Una miniera Aia Scavelati Che qui ci dovrebbe essere Una miniera È sicuro È sicuro Non è che sta All'altra parte Sì io di solito No no Io di solito Quando trovo la terra Trovo sempre Miniere Voto del ferro Voto del ferro Tanto Di solito Di solito a me Quando c'è una caverna Si deve sentire il rumore Ma adesso non sento niente Eh si pure Però di solito Io trovo Trovavo le miniere Pure con la terra Raga stiamo scavando Fino al centro Della terra Per trovare Una caverna Sperduta Ho trovato Un strano Materiale Non è il ciotto La ghiaia Ci sembra qualcosa Come c'è una ghiaia Questo non si sa Sto arrivando a casa Raga scrivete sotto Nei commenti Sim pappone Sim pappone Perché? Perché non è più online Da tanto Mamma mia Ho troppo Il carro Tutti la casa Sulla pietra Oddio Che tempaccia Gabri Te che hai la mappa Non è che me la potresti Crestare così Per arrivare Al livello Dei diamanti E qual è Y O X Mi sembra Che era Y Sì Y Allora Dove sono io Siamo a livello 24 Ah allora Io sono praticamente Quasi arrivato Vieni da me No tranquilli Voglio arrivare Anch'io Là sotto Andiamo a livello 12 Raga Aspetta Io sto già Facendo Tutte La ricerca Ci basta Io Ho trovato Altro per Mannaggia Ho scavato anche Io non sapendo Io non sapendo Non sei più sotto Di me Quindi Dove sei No No io sto più avanti Te Eh dico Stai più sotto Stai più sotto Qui ce ne diamanti Qui ce ne diamanti Undici Davvero Livello dodici No undici Qua Dove sono io Ok scava Oh ho trovato un'altra pietra Redstone Ho trovato la redstone Grande Facevo i macchinari Chi è che ha del legno da darmi Io no purtroppo non ce l'ho dietro Dannazione ho finito Qui si chiama il piccone Non ce l'ho Non ce l'ho anche altro Sennò Io C'è solo il perone Vado a raccogliere un po' di legna Anche se no Ed è un po' di Perchè C'è molta redstone Redstone Dai 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 Rompiti Cazzo Eh si può rompere solo col piccone di ferro Gabby lo sai che se la rompi con quello di pietra Non si prende Sì lo so è solamente che ho scavato male E quindi E che diamine O qualcuno mi può droppare qualcosa più Un piccone di ferro Qualcosa del genere Perchè io non ce l'ho più a scavare E io ce l'ho solo di pietra per me Sto andando a prendere Della legna Per poi darvi Io ho quattro cuori Sto morì Entra Chiuri Ok C'erano i zombie davanti a casa Dai raga Spolliciate per questo episodio stravolgente Tanto Visto che stiamo nerdando sotto Per recuperare tutti i materiali Che abbiamo perduto Perso Perduto Perduto Perso Stessa cosa Sì ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dai una staffetta Facciamo la staffetta Dentro le miniere Parca puttana Ecco qua Ce l'ho fatta Ora però Ah io ho mezzo stack Di legna Ok Un po' di bastoncini Mi posso graffare Due picocce in ferro Almeno ve le porto Io ti hanno veramente rovinato Ok Grazie mille A te sono proprio mirato Con l'arte e frecce Se hai qualche piccola di pietra E hai qualcuno di ferro Non mi farebbe male Ne ho uno Ne ho uno in pietra Ok Ritorniamo sotto Yeah Andiamo a scapare Siamo dei poveri nani Malefici Perché stiamo raccogliendo A livello 12 di diamanti Siamo i ardoni Ossidiana Dungeon raga Dungeon Grande Grande Raccogli Raccogli Uii Possiamo fare il nether A cab A cab Fede deve essere entrata Nella miniera sbagliata Ma io la colgo più redstone A me Serve tantissimo Un piccone in pietra Mi serve Tipo troppo Venite da me Ecco ecco Niconi con i Venite Allora Prima tattica Oh c'è lava qui C'è molta lava No Dai raga Oh c'è una miniera Lassopra C'è un enderman Una mezz'ora di miniera Una mezz'ora di video Eh si abbo Ok Abbiamo trovato sidiana E questo è molto buono Ragazzi C'è Mettete Mette sotto nei commenti Hashtag Mettete di tt troppo forte in miniera Vi ho trovato Dungeon Un po' d'acqua di lava In un secchio Sì A trovarlo Dungeon Che ho trovato io In questo momento Sì A me l'ho trovato Per chi minerale Io salgo Perché Sono messo C'è una miera Io ve l'ho detto Che non serve solo Il rumore C'è enderman Qui sopra Io vado Attento Non fatti uccidere C'è un creeper Ragazzi C'è un creeper Creeper Ah Attenzione Il Come si chiama Vieni subito Lollo C'è la lava Che sta invadendo E poi io Capri No c'è la lava Che sta invadendo Qui si chiama Il corso Oddio Mi ha droppato Una perla di Perla di end Oddio raga Capri Sto venendo Ho trovato Una bellissima miniera Lollo Mi piace per te Ma la lava Ti ha circondato Gabri Vengo Oddio Ho trovato Pietra rossa Lava Aiuto Oh porca miseria Sono circondato Anche io E non è una bella cosa Se c'è Pietra rossa Vuol dire Che c'è Non è vero Mi sono salvato Gabri Guardami Prendi un cubetto Prendi Non mi chiedi Un cubetto Che culo Gabri Di un cubetto Vabbè raga Tappiamo un po' l'acqua Che se no La gente qua Veramente ci vuole Vabbè raga Io concluderei qua Il video Perché abbiamo fatto Anche già abbastanza Quindi concludiamo Anche qua In miniera Facciamo al dungeon Ma qua c'è il dungeon Ok Voi come si troppa Il dungeon Ok Ok Concludiamo qui Ok Beh concludiamo qua Aspetta Aspetta Vediamo che Con questo sfondo Così Gabri qua al centro Vabbè Vabbè raga Per questo video È tutto Abbiamo fatto anche Molti in progressi Abbiamo trovato Non so quanti minerali Anche Anche nuove Nuove mappe Ricordo che In questa mappa Non ci dobbiamo morire Quindi Raga Per questo video È tutto Come assoluto Lasciate tanti pollicioni In su Al massimo 8 Per avere Altri episodi Qua Nella nostra Vabbè Non so più parlare Survive in the world Peccato che non c'abbiamo più Il mio vecchio server Che almeno C'abbiamo Anche qualcosa Da divertirci Vabbè Per questo video È tutto raga Spolliciate Commentate Condividete E iscrivetevi Al canale E quindi raga Ci si vede A un prossimo Blocco A un prossimo A un prossimo A un prossimo Grazie a tutti